Sì, cos' spettate? E' tu? Che è? Non è proprio spettato verso l'esene, io non mi asce. Didi, cos' spettate? E' un DJ? Non mi asce, non mi asce, non mi asce. Sì, cos' spettate? Sì, cos' spettate? Sì, cos' spettate? E' un'esene, io non ti asce. Sì, non ti asce. Perchè, non ti asce. Grazie a tutti